...al contesto storico questo nostro evento. Quindi se ancora non l'avete fatto potete passare al banchetto, prendere il materiale, le riviste, eccetera. E speriamo di avervi tra i nostri nell'associazione, siete ormai bruniani di fatto, nell'associazione nazionale del libero pensiero Giordano Bruno. Solo una comunicazione, per chi di voi fosse interessato, io farò una lezione su Giordano Bruno, sulla sua filosofia e ci saranno anche dei recitativi su Giordano Bruno. Alla biblioteca, guarda caso, Giordano Bruno che sta nella zona trionfale. Va bene? Allora, buonasera a tutti. Nel nome di Giordano Bruno, la lezione è lunedì prossimo, lunedì 20, alle ore 18, alla biblioteca Giordano Bruno. Allora, grazie a tutti. Nel nome di Giordano Bruno, né dogmi né padroni. Gloria, lunga gloria.